Siamo qui per definire e cercare di sviscerare quello che è una delle cosiddette vere emergenze che purtroppo il nostro Paese sta affrontando in questo momento in cui la democrazia è stata negata e viene continuamente ripresa alla luce anche della proroga dello stato d'emergenza che purtroppo è stata riconfermata anche con il voto alla Camera di questi giorni e alla luce anche del voto favorevole alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla diffusione intenzionale massiva di informazioni false attraverso la rete internet e sul cosiddetto diritto all'informazione e alla libera formazione dell'opinione pubblica. In questo periodo di emergenza Covid e di gestione dell'emergenza coronavirus sappiamo che la libertà di espressione di manifestazione del pensiero sono state effettivamente messe a dura prova. Questo per quanto riguarda ovviamente non quelle che continuano ad essere purtroppo i canali ufficiali del mainstream ufficiale ma quelle che sono invece i canali e le azioni libere di entità e di testate che sono scevre completamente da conflitti di interessi. Queste testate sono state appunto selezionate da quello che io chiamo e amo definire in questo periodo tremendo che stiamo affrontando il vero e proprio regime informativo e purtroppo sono state selezionate per essere costantemente vilipese come è stato poi durante il regime nazista, regime che prevedeva un ministero della propaganda e della stampa sono affiancato a quello della guerra. Ecco io penso che stiamo rivivendo sostanzialmente probabilmente anche un periodo peggiore rispetto a quello. Al ministero della guerra si è sostituito il ministero della salute attuale e al ministero della propaganda si sono sostituite le differenti tax force e poi appunto quest'ultima commissione parlamentare di inchiesta sulle cosiddette fake news. In questo senso il sistema non rispetta quindi nel diritto dell'informazione il pluralismo dell'informazione e tantomeno l'articolo 21 che prevede che tutta la stampa e quindi non solo quella di regime non possa essere soggetta a autorizzazioni e censure. E questo arriva fino al punto di censurare attraverso i canali Facebook e Youtube addirittura le dichiarazioni di voto di un parlamentare, la sottoscritta, attraverso i canali considerati non ufficiali. Ecco in sostanza che oggi tra l'altro vi racconto questa, abbiamo appena votato alla Camera la mozione che ha visto trasversalmente tutti uniti, la mozione per le iniziative a sostegno in ambito internazionale europeo in ordine rispetto degli accordi internazionali relativi all'autonomia di Hong Kong riferite ovviamente a tutta quella serie di vicende che hanno visto proprio i diritti umani e quindi il diritto della libertà di espressione, il diritto alla manifestazione pubblica, il diritto appunto alla libera informazione a essere negato proprio ad Hong Kong. Ecco allora che tutti, maggioranza ma anche opposizione, sono ed erano, si presentano tutti concordi nel manifestare appunto la giustizia rispetto a quelle che sono questi diritti naturali. Però è chiaro che ci sia in sostanza una totale schizofrenia perché qui in Italia stiamo vivendo proprio una situazione simile e siamo vicini appunto a quello che è un regime che è terribile. Ne parleremo oggi con Margherita Furlan, giornalista e cofondatrice di Pandora TV Parleremo con Marco Pizzuti, qui alla mia destra, ricercatore e scrittore e poi con Fulvio Grimaldi, un caro amico ma giornalista e documentarista di fama internazionale Avremo anche dei piccoli video da Fabio Duranti, editori di Radio Radio Claudio Messore, editore di Bio Blu e il primo da Massimo Mazzucco, fondatore di Contro TV Cedo la parola a Marco, prego Ringrazio l'onorevole Sara Cunial per questa lodevole iniziativa e vado subito a porre l'attenzione alla proposta di legge del 24 settembre 2019 la 2103, secondo cui dovremmo costituire una commissione parlamentare per impedire che vengano diffuse fake news Ora, questa pretesa di qualcuno di poter cassare ciò che è vero da ciò che è falso è contro lo spirito della Costituzione Noi sappiamo dall'articolo 21 che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione Quindi la nostra Costituzione è entrata in vigore nel 1948 e ancora non c'era il web ma ovviamente se ci fosse stato dovrebbe ricompresa anche questo si usciva da una dittatura e con queste norme si intendeva porre un'argine invalicabile proprio per un eventuale reinsediarsi di un regime che è quello che vediamo un po' adesso perché dove sta l'esigenza di andare adesso a creare una simile commissione parlamentare? Casomai una commissione parlamentare dovrebbe fare l'esatto opposto cioè tutelare i cittadini contro gli abusi che avvengono ormai regolarmente abusi mi riferisco a censure, oscuramento di canali e altri sistemi per impedire alle voci libere di essere divulgate e di essere ascoltate Qui stiamo facendo esattamente l'opposto Se si vogliono punire reati come la diffamazione e molti altri, tutti quelli che possono essere compiuti in mezzo stampa o con altri mezzi di comunicazione già abbiamo un codice penale che prevede questi reati e li punisce in maniera severa Quindi non c'è nessuna giustificazione per creare un organismo del genere che andrebbe a, a differenza di quello che succede oggi con un ordinario processo che garantisce la difesa a chi viene accusato andrebbe a semplificare la procedura e quindi a evitare che la persona che subisce l'abuso possa difendersi in un processo democratico Quindi senza dubbio è qualcosa che deve essere, dobbiamo cercare di impedire Poi abbiamo le grandi piattaforme social che ormai sono diventate mezzi di comunicazione di massa e svolgono una funzione importante perché sono una sorta di spazio civico libero dove appunto non c'era un controllo dove ogni cittadino poteva manifestare liberamente la propria opinione Ebbene i grandi canali social le grandi piattaforme delle multinazionali hanno cominciato già da tempo a porre dei filtri, delle censure che sono ufficialmente giustificate dal proprio regolamento interno ma che non trovano poi fondamento nella realtà perché come abbiamo visto ad esempio con il caso di Fabio Durantini editore di Radio Radio, una voce scomoda che è stata oscurata all'improvviso con i pretesti più assurdi e poi ripristinata soltanto a seguito dell'intervento di un ufficio legale e quant'altro quanto anche tutta la rete si è mobilitata per protestare contro un atto di questo tipo e poi abbiamo oltre alle censure per il proprio oscuramento dei canali abbiamo altri strumenti su queste piattaforme come lo shadow banning che sono molto più subdoli praticamente fanno in modo di limitare la visibilità senza che la persona, l'autore del testo scritto insomma tutto ciò che vuole divulgare ne venga a conoscenza quindi se un post per esempio avrebbe fatto 10.000 visualizzazioni con lo shadow banning possono diventare tranquillamente 10 o 2 e questo tutto all'insaputa dell'autore di quel post ecco questa è un po' la situazione che stiamo vivendo oggi e quindi io vorrei approfittare di questo piccolo spazio per parlare di quello che sta accadendo adesso con questa emergenza sanitaria e dire alcune delle cose che non sentiremo mai non troveranno mai cittadinanza nel circuito di informazione mainstream allora noi sappiamo che questo stato di emergenza è partito dall'OMS l'OMS nell'immaginario collettivo è l'organo sanitario più adorevole del mondo costituito da scienziati ed esperti che lavorano per la salute pubblica ecco questo è quello che è come viene descritto la realtà è esattamente all'opposto l'OMS è finanziata per i tre quarti dall'industria farmaceutica e il primo finanziatore in assoluto è Bill Gates che viene subito dopo gli Stati Uniti che come sappiamo Trump ha ritirato i suoi finanziamenti USA a questo ente quindi in pratica dipende interamente dalle donazioni dell'industria farmaceutica e non è complottismo affermare che va praticamente a rimorchio dell'industria perché se andiamo a fare una ricerca anche su quotidiani come per esempio il Sole 24 Ore scopriremo appunto che viene affermato spesso proprio questo cioè è della massima evidenza l'OMS è una diretta emanazione praticamente subisce l'influenza dell'industria farmaceutica e un personaggio come Bill Gates viene accolto come un capo di Stato quindi segue gli orientamenti stabiliti dall'industria farmaceutica quindi andiamo a vedere cosa è successo chi ci sta imponendo le regole di oggi quelle che stanno riducendo la fame a un paese che hanno messo una museruola a tutti quanti in un periodo in cui l'emergenza è praticamente finita da tempo in cui il virus è mutato non uscite più nessuno e i nuovi casi positivi si riferiscono a un virus che praticamente adesso è molto meno letale di una influenza stagionale parole di chi sta sul campo come Zangrillo che appunto ha affermato che il virus è clinicamente morto bene quindi noi abbiamo da quando è partita la crisi abbiamo visto costituire dei comitati tecnico-scientifici in tutti i governi del mondo e i governi hanno poi seguito le direttive emanate da questi da questi organi che sono a loro volta una diretta emanazione dell'OMS sono collegati con l'OMS quindi io se dico che c'è un interesse a mantenere alto il panico da parte dell'industria per arrivare poi alla vendita di un vaccino posso anche passare per complottista ma in realtà è quello che già è successo è successo nel 2009 con la pandemia suina la grande truffa della pandemia suina anche lì abbiamo visto giornali delle giornali esperti virologi andare in passarella e tempestare di notizie alla popolazione riguardo all'imminente catastrofe umanitaria un'emergenza sanitaria che veniva paragonata alla spagnola quindi milioni di morti si creò il panico anche lì ci furono i saccheggi degli alimentari come abbiamo visto in quest'altra emergenza ma poi per fortuna almeno in quel caso prima che si arrivasse a misure estreme l'OMS aveva dichiarato il massimo livello d'allarme possibile il sesto sesto livello si venne a scoprire che gli esperti dell'OMS erano in busta paga dei produttori dei vaccini e che quindi avevano interesse a gonfiare questa epidemia per poi appunto vendere i loro prodotti quindi cosa è successo che centinaia di milioni di vaccini acquistati dagli stati non sono serviti a nulla perché nessuno più poi si è vaccinato a parte una piccola minoranza l'industria farmaceutica ha gonfiato i suoi profitti e nessuno ha punito uno scandalo del genere in pratica i responsabili sia gli esperti che l'industria farmaceutica che ha lucrato su una cosa del genere e gravissimo in quanto l'OMS in quel frangente ha perso ogni credibilità ogni rispettabilità nessuno è stato punito quindi hanno acquisito anche la certezza dell'impunità e adesso vediamo poi ripetersi della stessa cosa nel 2009 eravamo arrivati al livello 6 ma non eravamo arrivati alla militarizzazione dell'emergenza perché appunto finì prima ma già c'erano praticamente gli strumenti per Pollinessere questa volta invece abbiamo visto addirittura elicotteri inseguire dei cittadini sulla spiaggia in diretta tv e soldati armati di mitra passare tra i bagnanti a controllare la distanza quindi veramente misure estreme non giustificate dall'attuale situazione noi vediamo che praticamente l'industria farmaceutica ha posizionato i suoi uomini di fiducia in tutte le poltrone che presiedono alla regolamentazione delle normative sanitarie e alle strategie sanitarie e quindi troviamo conflitti di interesse ovunque persino l'EMA che è l'agenzia europea per il farmaco è finanziata per l'84% dall'industria farmaceutica e quindi è assolutamente un ente che non può dirsi autonomo anche le associazioni mediche quasi tutte le associazioni mediche ricevono donazioni dall'industria farmaceutica che ha moltissimi amici nel 2015 il presidente del dell'agenzia per il controllo del farmaco italiano dell'AIFA Sergio Pecorelli si è dovuto dimettere a seguito di un'accusa di conflitto di interessi gravissima di terzo livello praticamente che non consente di svolgere nessun tipo di attività in nome di questo ente nel 2018 Walter Ricciardi è stato accusato anche lui di conflitto di interessi con l'industria farmaceutica e i produttori di vaccini Walter Ricciardi è lo stesso professore che collaborò alla stesura della legge Lorenzin che portò i vaccini da 4 obbligatori fino a 10 anche se nelle sue intenzioni dovevano essere 12 e poi per fortuna è stata limitata solo tra virgolette a 10 e a seguito di questo scandalo Walter Ricciardi si è dimesso si è dimesso ma dove ce lo siamo ritrovato? Ce lo siamo ritrovato a capo del comitato tecnico-scientifico e fa da anello di congiunzione con l'OMS barra industria farmaceutica barra società a scopo di lucro per non parlare degli esperti in questo periodo noi abbiamo assistito a passerelle continue di virologi esperti che hanno diffuso il panico in ogni maniera possibile ebbene la maggior parte di loro ha stretti rapporti di collaborazione con l'industria farmaceutica l'ultimo scandalo è stata l'accusa di conflitto di interessi che riguarda Roberto Burioni denuncia che è arrivata dal Codacons ecco poi una cosa che tutti dovrebbero sapere è di quale scienza parlano quando questi esperti vanno in televisione perché spesso si additano come rappresentanti del mondo scientifico come gli unici ed esclusivi rappresentanti del mondo scientifico allora nell'immaginario collettivo la scienza è sempre oggettiva quindi se un farmaco è efficace e non ha effetti collaterali non può essere affermato altrimenti in realtà è vero l'opposto la scienza è di due categorie la ricerca scientifica indipendente e la ricerca scientifica finanziata dall'industria infatti gli esperti i ricercatori conoscono il cosiddetto effetto finanziamento che cosa significa che a livello statistico tutte le ricerche finanziate dai produttori finiscono sempre al loro vantaggio quindi se sai prima da chi è finanziata la ricerca sai anche che esito avrà se la Coca-Cola finanzia uno studio per sapere se la Coca-Cola fa male le conclusioni saranno che la Coca-Cola non solo fa bene ma che magari potrà anche sostituire la frutta questo sostanzialmente è la situazione oggi insomma e purtroppo non i cittadini non sanno quando appunto parlano gli esperti a cosa si riferiscono esattamente ora come si fa poi a rendere degli studi scientifici spazzatura autorevoli beh ci sono molti modi uno di questi è pubblicare sulle riviste più autorevoli del mondo come ad esempio il Lancet o il New England Medicine Journal e cosa cosa succede in queste riviste anche queste riviste per sopravvivere hanno bisogno di finanziamenti perché hanno una bassa tiratura e una delle loro maggiori voci d'entrata sono gli inserti pubblicitari pagati dall'industria farmaceutica quindi l'industria farmaceutica ha una forte influenza su queste riviste e Richard Smith l'ex direttore del British Medical Journal quindi una persona della massima autorevolezza ha denunciato lo scandalo dei ghostwriter che cosa sono in pratica molti luminari vengono pagati per consulenze d'oro dall'industria farmaceutica e di conseguenza sono molto compiacenti e finisce spesso che arrivano a firmare delle ricerche scientifiche mai condotte da loro come se fossero le proprie ma che in realtà sono state preparate dai direttori di marketing delle aziende farmaceutiche ecco questo è uno dei primi scandali ma ne abbiamo uno recentissimo che riguarda proprio la rivista più autorevole del mondo il Lancet e anche la New England Journal of Medicine perché è stato pubblicato uno studio sulla clorochina un farmaco che dà molto fastidio a chi vuole mantenere alto il panico perché sembra in grado di curare egregiamente efficacemente il covid-19 e quindi come altre terapie come l'immunoterapia l'ozonoterapia eccetera tutte le terapie che funzionano sul campo vengono ostacolate dall'alto insomma è comparso questo studio dove si sosteneva che la clorochina è oltre che inefficace anche ha effetti collaterali importanti cosa è successo che dopo la pubblicazione hanno protestato molti scienziati hanno preteso di vedere i dati su cui era fondata questa ricerca e quindi poi da lì ci si è accorti che in realtà questa ricerca era stata pubblicata da una società che aveva come editor scientifico niente poco di meno che un autore di fantascienza e che tra i sei dipendenti della società c'era una modella porno ora io quello che mi chiedo e su cui dovrebbero riflettere tutti è come si fa a pubblicare su due delle riviste più prestigiose del mondo una ricerca spazzatura del genere è molto difficile poter avere accesso a queste riviste quindi se è stato possibile e non una volta ma addirittura su due significa che qualcuno di molto influente ha permesso che accadesse ha fatto pressioni affinché venissero pubblicate quando poi la ricerca è stata ritirata ne sono però comparse altre come funghi questa volta fatte un po' meglio proprio per sostenere la stessa cosa è stato fatto comunque che se qualcuno aveva interesse a screditare la clorochina per mantenere alto il panico e all'attesa messianica per il vaccino perché se andiamo a sentire quello che dicono gli espertoni del comitato scientifico e l'OMS potremo tornare alla normalità soltanto quando arriverà appunto questo vaccino ecco quindi la situazione alla fine è andata in maniera tale che la clorochina è stata demonizzata anche se esistono tante ricerche la maggior parte delle quali è a favore di questo prodotto e poi cosa è successo che l'OMS ha eletto come primo farmaco anti-covid il remdesivir un farmaco che il Financial Times aveva descritto in uno scoop grazie a un documento pubblicato accidentalmente proprio dall'OMS aveva descritto con effetti collaterali talmente pericolosi che avevano dovuto sospendere la sperimentazione poi sono arrivate altre ricerche dopo che hanno sostenuto esattamente l'opposto e adesso è diventato un farmaco che ha meno effetti collaterali di un vaccino ora i conflitti di interessi dell'industria e della grande finanza sono praticamente ovunque e sotto gli occhi di tutti quindi anche se spostiamo il mirino per esempio sulla task force per la ricostruzione dell'Italia anche lì troviamo le stesse identiche situazioni chi dirige la task force? Vittorio Colau chi è Vittorio Colau? ex AD della compagnia telefonica Vodafone prima Omnitel ora CDA del Verizon il colosso statunitense del 5G e quando 520 sindaci delle nostre società hanno chiesto di rispettare il principio di precauzione in virtù del fatto che circa 200 scienziati autorevoli di tutto il mondo si oppongono appunto all'installazione del 5G senza studi per la sicurezza della salute la risposta del governo è stata un decreto semplificazioni che ha semplificato fino al punto di praticamente asfaltare i sindaci nel senso che non possono più creare alcun impedimento all'installazione delle antenne so quanto tempo mi rimane va bene io concludo soltanto un accenno a come poi viene tenuta su questa emergenza con i DCPM atti amministrativi che sono assolutamente incostituzionali perché hanno un valore che è inferiore a quello della legge ordinaria e nonostante questo vengono utilizzati per limitare diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione ora questo non lo dico soltanto io ma lo dice anche il Presidente della Corte Costituzionale e l'ex Presidente Baldassarre sempre della Corte Costituzionale l'unico motivo in dottrina per cui potremmo accettare questo tipo di atti amministrativi è una situazione d'emergenza equiparabile allo Stato di guerra quindi lascio concludo con questo che l'unica vera emergenza non è sanitaria ma è democratica grazie buonasera a tutti sono Margherita Furlanco fondatrice di Pandora TV e adesso diamo in video la parola a Massimo Mazzucco regista e giornalista visto che il tema di oggi è l'informazione ho deciso di rivolgermi direttamente a tutta la categoria dei giornalisti perché ovviamente siete voi l'ingranaggio cruciale che manda avanti il meccanismo dell'informazione voi giornalisti avete scelto un lavoro bellissimo informare la gente posso solo immaginare quanto sia stato bello per ciascuno di voi il momento in cui avete avuto la folgorazione professionale avete capito che questo era il mestiere che volevate fare immagino anche che ciascuno di voi abbia intrapreso la propria carriera con lo spirito più nobile che è quello di rispettare sempre la verità e di portare a conoscenza degli altri i fatti nudi e crudi senza permettere a nessuno di inquinarli con ideologie o con falsificazioni poi magari molti di voi hanno scoperto nel corso della carriera che non è sempre possibile raccontare la verità nuda e cruda e che bisogna in certi casi adeguarsi a quella che viene chiamata la linea editoriale linea editoriale non è altro che un eufemismo per le cose che si possono dire e quelle che non si possono dire nel mondo di oggi e qui ovviamente per ciascuno di voi scatta il conflitto fra quella che era la mission originaria della vostra professione e la necessità di non perdere il posto perché tutti abbiamo famiglia tutti abbiamo bisogno di lavorare e nessuno al giorno d'oggi può permettersi di mandare a gambe per aria la sua carriera solo per perseguire il proprio idealismo però è anche vero che ciascuno deve porre un limite etico e morale deve tirare una linea rossa al di là della quale non bisogna comunque andare se il tuo direttore ti chiede di non attaccare un certo personaggio perché magari fa parte del suo stesso schieramento politico allora la cosa ci può anche stare se il direttore ti chiede di non dare una notizia positiva su Putin perché altrimenti esci dalla linea atlantista del giornale e magari poi gli americani si arrabbiano ci può anche stare finché si tratta di politica di schieramenti la cosiddetta linea editoriale è comprensibile fa parte dei giochi ma quando ci va di mezzo la salute delle persone la salute dei tuoi concittadini allora lì non si può più accettare di tacere lì voi avete delle responsabilità ben precise se ad esempio esce la notizia che il ministro Speranza ha ricevuto una lettera da 30 medici italiani i quali gli raccontano di aver curato decine di malati di covid con i cortisonici e lui l'ha completamente ignorata e poi un mese dopo ti ritrovi l'OMS che elogia i medici britannici per aver fatto la stessa identica scoperta allora questo voi lo dovete denunciare perché vuol dire che abbiamo un ministro della salute totalmente incompetente che si lascia sfuggire delle possibili cure e che a causa della sua negligenza magari ha lasciato anche morire molte persone che invece potevano essere salvate io ho fatto un video a questo proposito che si intitola ministro Speranza dire dimissioni ma io sono piccolino non ho l'audience che avete voi nel mainstream quindi in casi come questo voi avete il dovere l'obbligo morale di denunciare un fatto del genere e di informare adeguatamente le persone perché ne va della loro salute e anche della loro vita idem per il caso dell'idrossiclorochina avete fatto tutti dei titoloni cubitali per dirci che l'idrossiclorochina non solo non curava il covid ma addirittura poteva essere dannosa solo perché lo diceva il Lancet ma poi quando è venuto fuori che la ricerca del Lancet era una frode plateale basata su dati assolutamente inesistenti voi avete dato la smentita in tre paragrafi piccoli piccoli a pagina 15 e nessuno l'ha vista tant'è vero che ancora oggi l'istituto superiore di sanità non autorizza l'uso dell'idrossiclorochina contro il covid mentre doveva essere tutto il contrario la notizia che l'idrossiclorochina era dannosa andava presa con le pinze visto che è un medicinale che si usa in tutto il mondo da oltre 50 anni e quando la ricerca del Lancet si è rivelata una frode quella doveva essere messa in prima pagina a titoli cubitali la gente deve sapere che c'è qualcuno che manipola le ricerche scientifiche per un proprio tornaconto personale e da chi deve venire a saperlo se non da voi che avete scelto come mestiere quello di informarli altro caso clamoroso Zingaretti mette l'obbligo per il vaccino antinfluenzale a tutti gli over 65 nella sua regione con la scusa che in questo modo faremo prima a distinguere i malati da covid ora a parte che questa è una giustificazione senza il minimo fondamento scientifico cioè una barzelletta in realtà e non ci vuole un genio per capirlo ma c'è addirittura il fatto opposto ovvero che la vaccinazione antinfluenzale rischia di aumentare le possibilità di contrarre il coronavirus è uscita una ricerca del pentagolo nei mesi scorsi che dice che per il noto fenomeno chiamato interferenza virale chi fa il vaccino antinfluenzale ha il 36% in più di possibilità di contrarre il coronavirus anche il ministero della salute inglese ha detto la stessa cosa chi fa il vaccino antinfluenzale rischia più degli altri di contrarre il coronavirus trovate tutto nel mio video intitolato messaggio a Zingaretti che sta su youtube quindi in questo caso non solo siamo di fronte a una violazione dei diritti della persona obbligando il cittadino ad un trattamento sanitario con il quale magari non è d'accordo ma siamo anche di fronte ad un rischio sanitario sostanziale per tutta la popolazione se voi non date queste informazioni correttamente rischiate di diventare complici di un eventuale aggravamento della situazione del covid in autunno tenetele presente queste cose non fate finta di non averle sentite ora io capisco voi direte ma se il mio direttore non mi permette di dare certe notizie io cosa ci posso fare certamente finché combattete da soli la vostra è una battaglia persa se continuate da soli a insistere per pubblicare notizie del genere è chiaro che prima o poi rischiate di perdere il posto oppure vi ritrovate a fare la cronaca rosa nei paesini di provincia ma voi non dovete combattere da soli ciascuno la propria battaglia personale voi potete unirvi potete organizzare dei comitati di redazione potete condividere queste informazioni fra di voi e dopo andate tutti insieme dal direttore a dirgli guardi direttore noi abbiamo queste informazioni le abbiamo verificate sono valide sono importanti e abbiamo l'obbligo morale di renderle pubbliche a quel punto se il direttore si trova davanti una relazione compatta che chiede cose nel nome per la salute dei vostri concittadini non penso che possa far finta di niente anche perché voi eventualmente potete poi denunciarlo pubblicamente se non vi da retta quindi coraggio organizzatevi non state solamente lì seduti a fare da passacarte per le veline dell'ansa non è questo il mestiere che avete scelto datevi da fare tirate fuori il vostro orgoglio fate le vostre ricerche personali e cercate di rendere alla nazione il servizio che siete stati chiamati a svolgere quello di informare correttamente le persone su quello che accade e che riguarda direttamente la salute di tutti noi grazie diamo ora la parola a Fulvio Grimaldi scrittore giornalista e documentarista allora quello che dico io di solito e che dirò adesso nel tempo più breve possibile e chiedo a Sara di lanciarmi qualche cosa quando è il momento di tacermi non sarà gradito ai miei colleghi in maggioranza in particolare in quelli in remoto come si usa dire adesso però io la giustificazione di quello che dice una storia ahimè anagraficamente molto lunga e quindi professionalmente molto lunga e parte dalla metà del secolo scorso e che incomincia con la BBC e finisce con la RAI passando per varie testate nazionali internazionali che mi danno quindi una certa idea di quello che è successo nel corso del tempo alla nostra informazione io direi che la nostra informazione di oggi sta a quella che ho conosciuto nella seconda metà del secolo scorso forse come l'orso libero di oggi il famoso capapion all'orso che in qualche maniera era incatenato ingabbiato quello di oggi ha intorno a sé un limitato spazio in parte colonizzato non è perfetto ma si muove in qualche maniera ha delle scelte quello della gabbia non ce l'aveva quella l'informazione che sta oggi nella nostra prospettiva di lettura e divisione è quella dell'orso nella gabbia ma è un orso che è rassegnato non è come questo intelligentissimo e coraggioso e non rassegnato che scavalca tutti gli ostacoli più impensabili e si riappropria ad una limitata libertà data in queste contingenze noi siamo anche oggi in una condizione direi avvicinandomi alla politica che assomiglia a quello oggi siamo nella condizione di come oggi sono i 5 stelle rispetto a come erano dieci anni fa per dire potrei anche dire che oggi noi siamo in una condizione che ci fa avvicinare nel confronto a un Gennaro migliore rispetto a un Aldo Molo cioè c'è stata una degenerazione organizzata programmata calcolata e fatta alla perfezione che è stata possibile attraverso la concentrazione delle proprietà abbiamo oggi degli oligopoli di stampa e non abbiamo più possibilità di uscirne perché quelli che sono ancora fuori i piccoli i provinciali eccetera o si attengono alla direzione degli oligopoli Gedi Elkan De Benedetti Cairo eccetera oppure non vivono perché non gli si dà la pubblicità comunque sembrano strani non sono in armonia con la generale e quindi poco credibili e noi abbiamo una situazione per cui si è chiesto in una precedente conferenza stampa che si dovrebbe sciogliere l'ordine dei medici e allora l'ordine dei giornalisti in una situazione come questa dove una totalità della stampa in politica estera come in politica interna sul covid come sul 5G sulla Russia e sulla Cina e sugli Stati Uniti e sull'Iran eccetera è assolutamente compatta non ha una varietà non ha una dialettica non ha uno scambio che razza di informazione ci può dare dall'estrema destra parlo del manifesto di Repubblica dell'Espresso all'estrema sinistra che non c'è sono tutti quanti una unica voce che corrisponde più o meno alla voce del Deep State americano che è quello che poi tiene i suoi tentacoli in quanto si è raccontato fino adesso nelle precedenti conferenze stampa cioè nel grande conglomerato farmaceutico e nel grande conglomerato digitale delle piattaforme ecco io vorrei fare un piccolo rapporto che è la cosa che ha insegnato Maria Montessori a noi e ce ne siamo dimenticati quasi tutti quanti che bisogna guardare alle connessioni ai dettagli ai legami tra le cose roba che raramente nella stampa di oggi nella televisione di oggi si riesce a riscontrare viene fatto cioè i collegamenti le connessioni che illumina uno scenario complessivo si vede una cosa se ne vede un'altra li si separano c'è stato addirittura un'ucase di questo governo che attraverso la sua famosa task force dell'informazione cosa inconcepibile in quello che si definisce democrazia c'è dentro un David Puente che viene da Repubblica che tra l'altro cura una bella pagina di Enrico Mentana che si chiama Open dove si denunciano sistematicamente tutti gli erettici tutti quelli fuori strada tutti quelli che dicono fake news che dicono cazzate è un delatore non è un giornalista tutti gli altri sono dei PR pubblica relazione propagandisti reclamo va bene questa gente questa task force che contiene questo tipo di società chiaramente tutti quanti estratti dalla stampa mainstream che si deve definire stampa di regime non hanno mai non hanno mai permesso che si collegasse il covid il virus al 5G beh nell'evidenza gli uomini del covid sono gli uomini del 5G sono interconnessi sono anche gli stessi Bill Gates è un uomo di Big Pharma ma è anche un uomo che lavora con Microsoft o era il capo di Microsoft cioè del digitale sono interconnessi dipendono uno dall'altro perché dipendono uno dall'altro un'altra connessione è quella storica che è completamente abolita noi dobbiamo pensare al presente non dobbiamo pensare mai a quello che c'è prima né agli emigranti che partono dalle loro terre dalle loro famiglie dalle loro comunità vengono estratti indotti a venire in campi di pomodoro in alti forni o a fare i rider per Deliveroo però questa è la loro bella vita promessa dalle ONG e non dobbiamo sapere cosa c'è stato prima di noi e allora qualcosa che c'è stato prima di noi invece ci insegna a capire che questi hanno dei progetti di lunghissima durata di grande gittata nel tempo molto di più di noi che non ci stiamo che non ci piace che li combattiamo Taylorismo incominciava allora pensa come la pensano lunga questi qua quando l'operaio il lavoratore faceva il suo lavoro faceva un lavoro che risultava il suo lavoro era il suo prodotto poi viene Taylorismo poi viene Ford poi viene la catena di montaggio e il lavoratore l'operaio è espropriato del suo prodotto non si può più riconoscere in questo prodotto non gli occorre neanche più l'intelligenza la cultura la preparazione per fare quel prodotto complesso deve soltanto muovere una cosa attaccare una cosa spingere una cosa ripetutamente infinitamente fino al totale annichilimento culturale e di intelligenza ed ecco già un uomo che diventa da uomo un minus abens un minus est non soltanto il non avere ma non essere che sono poi le cose intrecciate secondo le aspettative dell'elite quell'elite che è lo 0,0,0,0,0,0,1% dell'umanità però ci detta tutto quanto lì è incominciata oggi siamo arrivati a un punto molto avanzato dove il minus abens deve essere proprio annientato annichilito lo si è attraverso la separazione lo si fa lo si raggiunge attraverso la separazione ed è qui che la informazione i media entrano in campo intimandoci di stare separati come il potere tecno scientifico che detta le sue cose a quello politico di cui è cade da guardia non dell'opinione pubblica ma di questo consesso tecno scientifico politico non più politico obbediente eccetera e impone all'opinione pubblica questa questa situazione della separazione quando c'era il terrorismo c'erano ancora una cosa che dava fastidio c'erano le masse gli operai per quanto sulla catena di montaggio erano tanti e uscivano insieme ed entravano insieme e si guardavano negli occhi e si organizzavano e tutti quanti così anche negli uffici nelle scuole si stava insieme ci si confrontava con gli abusi anche a volte dei grandi degli adulti di casa e di scuola e si cresceva in questa maniera uniti e questo va abolito questo concetto della massa che fa una paura pottuta a questo 0,0 0,0 1% andava distrutto e questo è il progetto covid e questo è il progetto 5G 4G 6G quello di disconnetterci connettendoci ci dicono siamo tutti connessi siamo tutti in una rete è uno che è separato dall'altro e non deve conoscere l'altro la mascherina non deve capire che faccia all'altro e non far capire all'altro che faccia a lui che sguardo a lui che espressione a lui deve essere bianco flat piatto cioè dispersonalizzato e decorporizzato e noi siamo corpi se non siamo corpi non siamo più niente non dobbiamo più essere neanche corpi uniti dobbiamo essere corpi separati e dalla mattina alla sera i nostri mezzi di informazione dando prova della totale mancanza di minimamente avere una coscienza di giornalisti cioè di comunicatori di verità far comprendere le cose e quello che c'è dietro alle cose quando lo fai sei complottista e questa è la nostra stampa e questo è quello che dobbiamo da questa stampa da queste autorità politiche tecno-scientifiche a prendere di stare lontani uni dagli altri allora il fatto che ci sia adesso incominciato a smuovere qualche cosa che si arpeggia nella gente una sensazione che c'è un po' di truffa di aria di truffa che le cose non tornano che io ci rimetto di più di quanto non ci guadagno a stare lontano a essere separato a lavorare da casa a studiare da casa a far sesso da casa a ordinare e mangiare da casa a far tutto da casa da solo ma allora io sono molto molto debole così si incomincia a capire questo e incomincia a emergere in politica attraverso iniziative che denunciano questo hanno capito questo lo fanno sapere arriva addirittura uno sgarbi un fazzarellone come sgarbi a rompere questo questo specchio deformante e subito si scatena ce ne siamo accorti la controrelazione della stampa dei cani di guardia di questi manovratori ieri sera c'era in onda del Cairo Cairo significa Lili Gruber significa Formigli significa Floris eccetera che avevano una tre ore di bombardamenti contro Sara Cugnial sostanzialmente dei controsgarbi quelle sue follie ma comunque anche un folle può dire una cosa giusta ogni tanto addirittura Salvini ha detto una cosa giusta quando si è tolto la maschera pensa un po' ma a mezzogiorno anche l'orologio morto dice rotto dice una cosa vera quando ha la lancetta su quel punto lì insomma hanno utilizzato di tutti hanno tirato fuori Fauci quest'altro socio compare di Bill Gates eccetera conflitti di interesse come diceva lui prima giganteschi spaventosi annichilenti eccetera hanno tirato fuori questo che ha intimato terroristicamente non è finita dobbiamo continuare a essere in guardia ritornerà cioè le basi scientifiche per dire ritornerà ma che è l'oracolo di Delphi è la Sibilla Cumana per dire a settembre dovete essere in queste condizioni perché ci sarà questo e quest'altro non lo sa è un fanfarone è un bleffatore lo sono tutti gli altri c'è anche Galli quello del del Sacco di Milano è un altro sparatore di terrorismo incredibile cioè si stanno allestendo avendo preso coscienza che qualche cosa traballa nella presa di coscienza politica in qualche organo che non sia quello del mainstream eccetera cioè nella rete che è il nostro unico santuario che ci rimane ancora per trovare degli spiragli di verità oltre a tante sciocchezze ma ci sono anche gli spiragli di verità che nel resto ufficiale non ci sono più quindi benvenga la rete si sono accorti che queste cose traballano e hanno incominciato la reazione la controoffensiva amici fino nei prossimi giorni noi assisteremo veramente a uno scatenamento il più possibile feroce intimidatorio terroristico su tutta la nostra informazione sulla nostra meccanismo di propaganda di reclama eccetera perché hanno preso coscienza e questo è un fatto che si consola che ci stanno aprendo delle crepe e queste crepe dobbiamo allargarle e le allargheremo sparando verità su verità dati sanitari dati sulla illegittimità di tutto quello che sta avvenendo ma dati anche sulla distruzione della nostra umanità attraverso la combinazione degli sforzi collettivi dei potenti di separarci di toglierci la nostra faccia noi invece la faccia ce la dobbiamo mettere grazie abbiamo adesso l'intervento video di Fabio Duranti editore di Radio Radio dovrebbe arrivare forse c'è qualche problema nella connessione perché non parte il video procedo con il funziona? Buon pomeriggio a tutti un saluto ai presenti ringrazio l'onorevole Sara Kunial per avermi invitato a discutere di questo argomento così importante così spinoso e così d'attualità in questo periodo la libertà di informazione oggi si discute dell'istituzione di una commissione cosiddetta per il controllo delle false informazioni in rete e anche non in rete l'argomento va da sé è discutibile ora non staremo qui a fare una lezione di diritto perché né mi compete né ne abbiamo il tempo è ovvio che tutte le costituzioni del mondo dei paesi civili hanno bypassato il problema del giudizio della veridicità dell'informazione ovvero l'informazione non può essere soggetta ad una censura preventiva o addirittura ad una autorizzazione ma semmai è soggetta al giudizio del popolo le uniche informazioni le uniche notizie le uniche l'unica diffusione di parole sconvenienti è quella legata agli eventuali reati penali e quindi le diffamazioni le calunnie o quant'altro possa in qualche modo influire nella diciamo nella società in modo negativo penalmente rilevante ma questo è un argomento che del quale devono occuparsi eventualmente persone preposte terze assolutamente terze ovvero i giudici ecco non può certamente assurgere al ruolo di giudice o censore un collega un giornalista di una testata concorrente di una testata diversa quindi le famose task force formate da colleghi di altri giornalisti che debbono giudicare l'operato sono un obbrobrio costituzionale un obbrobrio dal punto di vista del diritto e sicuramente contrastano con tutti i dettami costituzionali civili e cancellano migliaia di anni di storia di diritti e di conquiste della libera informazione ma questo è un argomento che potrebbe essere discusso in altre sedi da giuristi da filosofi io voglio però accendere una luce un focus su un problema che va ben oltre la questione delle task force e delle commissioni che molto probabilmente verranno smentite verranno cancellate quando verrà sottoposto al giudizio di una magistratura superiore il provvedimento che è contrario alle leggi costituzionali ma il punto è un altro e cioè la libertà di informazione è chiaro che la libertà di informazione non è mai stata gradita al potere costituito i potenti hanno sempre contrastato la libertà di informazione perché dissentire rispetto al pensiero unico è sempre stato l'incubo di qualsiasi governante che voglia conservare in eterno il proprio posto e quindi si è sempre intervenuto in qualche modo nei periodi di dittatura c'erano i ministeri della verità o c'era comunque c'erano delle forze di polizia che intervenivano sui dissenzienti però questo è apparso come una cosa brutta negativa certo ma soprattutto una cosa che poteva essere toccata che poteva essere mostrata e quindi che indignava e quindi come fare per soffocare il dissenso beh oggi ci sono queste task force cosiddette ci sono queste commissioni ma queste commissioni vedete sono soltanto l'inizio di un progetto ben più ampio che è già in corso e che si sta già verificando visto il tempo così breve che abbiamo per questo intervento cerco di accelerare il principio e voglio raccontare che quando 42 anni fa io ho iniziato a fare radio e televisione non avrei mai immaginato che nel futuro si potesse arrivare ad un ad un sistema dove le infrastrutture per la diffusione del pensiero non sono più sotto il nostro controllo cosa voglio dire voglio dire che noi abbiamo iniziato accendendo trasmettitori andando sulle montagne ad accendere trasmettitori per diffondere alle persone cercando postazioni per illuminare il territorio dove far raggiungere il nostro segnale la nostra voce le nostre immagini abbiamo lottato tantissimo molti anni lo stiamo facendo ancora perché ancora ci sono problemi legati in parte a false credenze sulle onde elettromagnetiche che nelle frequenze radio televisive si sa sono sostanzialmente innocue ma ma soprattutto anche per per mesi si continua a lottare ma questa lotta probabilmente di qui a breve se non verranno modificate le attuali norme se non verrà modificato l'andamento dove si sta andando saranno completamente inutili quindi tutto il lavoro che noi avremo fatto di costruzione di infrastrutture indipendenti inamovibili se non per ovviamente un provvedimento di un giudice per qualche motivo per una diffamazione per atteggiamenti ovviamente penalmente rilevanti ecco che quello è l'unico motivo per il quale tu puoi fermare un'informazione ecco tutto questo finirà perché noi stiamo andando verso un'informazione interamente veicolata dalla rete cosa vuol dire la digitalizzazione la cosiddetta digitalizzazione che oggi viene viene mostrata come un qualcosa di innovativo di nuovo di bellissimo di meraviglioso in realtà nel caso dell'informazione è un sistema che consentirebbe domani e già lo fa oggi già lo consente oggi a chiunque di spegnere una voce con un click c'è qualcuno che decide di spegnerti preme un pulsante e ti spegne ecco perché l'informazione che passa per la rete è sempre un'informazione soggetta ad un giudizio terzo che non è un giudizio che proviene da un ente di garanzia ma è un giudizio di un privato lo abbiamo visto con le chiusure dei canali facebook ci siamo capitati anche noi ma poi tutto si è risolto ma il nostro è stato un caso molto particolare molte persone non hanno più i loro canali di visualizzazione molte persone sono state chiuse molti video sono stati oscurati molti audio sono stati oscurati molte pagine sono state oscurate passando per le reti sia sociali che non social sia social che non social quindi tutto quello che passa per una rete che non è più sotto il nostro diretto controllo è molto più complesso spegnere un trasmettitore di una televisione di una radio un giornale è molto più complesso perché dovresti intervenire fisicamente e questo lo può fare soltanto in un paese libero civile la magistratura ecco nel caso della rete ed è lì che ci stanno portando ci stanno portando in un sistema dove esisterà soltanto la diffusione tramite rete le radio solo sullo streaming non si vendono più ricevitori con la FM ad esempio quindi la digitalizzazione porta ad avere un unico padrone o padroni che possono premere un pulsante e spegnerti così come con il danaro ti potranno spegnere un conto corrente e tu non sarai più nessuno così con la informazione non servirà più fare le commissioni per le fake news le commissioni che decidono chi dice il giusto e chi dice e chi dice una cosa sbagliata o addirittura chi deve essere tacciato perché per tacciare una persona per tacciare un mezzo di informazione basterà premere un pulsante con una scusa qualsiasi o anche senza una scusa qualsiasi perché le policy lo prevedono ecco questo è il problema del futuro è il focus sul quale noi dobbiamo concentrarci per impedire che la libera informazione sia un lontano ricordo di democrazie che hanno avuto negli anni 70-80 almeno qui in Italia il loro reale compimento e che ora stanno svanendo le vediamo svanire sotto i nostri piedi grazie per l'attenzione allora io innanzitutto ringrazio l'onorevole Sara Cunial per avermi invitata qui e ringrazio tutti coloro che sono qui presenti noi qui oggi vogliamo parlare come mi ha consigliato l'onorevole Sara Cunial soprattutto in particolar modo dell'ultima commissione anti-fake news che è stata votata ieri alla Camera e un'altra commissione voi direte certamente perché evidentemente pare che ci sia un problema di informazione un problema giornalistico come qualcuno di noi sottolineava prima e io vorrei capire da dove nasce questo problema dell'informazione inutile negare che siamo in un momento di straordinaria transizione a livello globale e qualcosa è cambiato dunque anche per noi per noi tutti giornalisti di tutto il mondo che prima eravamo abituati da sempre al monopolio dell'informazione inteso come l'esclusiva di poter parlare da uno a tanti oggi invece questa esclusiva non l'abbiamo più per tornare a essere autorevoli dunque occorre cambiare molte delle cose del vecchio mestiere e come fare prima di tutto imparando a cercare la verità noi stessi in un mondo in cui la verità è diventata merce ed è diventata merce rara il giornalista ha infatti un dovere informare correttamente i cittadini oggi nel grande mare della rete è vero che esistono molte isole dove è ancora possibile usare le principali norme del giornalismo sì è vero ma la sua autonomia quella della rete oltre che minacciata dal proprietario del mezzo è ora sottoposta come alcuni di noi hanno già detto alle leggi degli algoritmi a tecniche comunicativi a un mare di comunicazioni solo apparentemente informative ma in realtà di carattere commerciale ancora una volta di carattere pubblicitario e quindi manipolatorio è il mercato è il mercato con la sua forma con le sue esigenze che decide tutto anche il giornalismo anche l'informazione così la comunicazione perché effettivamente non è più il caso di parlare di informazione ma di comunicazione che in questo modo diventa affannosa diventa frenetica diventa permanentemente pirotecnica anche questo tipo di informazione diventa un inganno finisce per affogare in un inganno ancora più tragicomico che consiste nella falsificazione dei contatori dei contatti perché è ormai chiaro a tutti che la quantità dei contatti che i padroni del web ci comunicano non corrisponde affatto ai contatti reali e i contatti reali non corrispondono affatto ad un pubblico fedele e la politica purtroppo oramai parte anch'essa del mercato il mercato con la M maiuscola fa larghissimo uso di questo inganno a doppio fondo basti pensare per esempio alla recente scoperta dei 60.000 profili di Twitter falsi utilizzati per far cadere Evo Morales in Bolivia oppure la scoperta che il tanto strombazzato mantra dei 2.450.000.000 di utilizzatori di Facebook è di gran lunga sovrastimato dai milioni di indirizzi falsi creati apposta per essere venduti alle agenzie pubblicitarie le quali agenzie pubblicitarie a loro volta li vendono gli inserzionisti che fingono di crederci siamo dei numeri da vendere tutti qui in queste aule un tempo si è molto parlato di multipolarismo ideologico ma a me sembra che oggi ai tempi del villaggio globale si stia andando sempre più velocemente verso l'imposizione di un'unica struttura comunicativa unificata anche sotto il controllo dei giganti del web quindi il problema sta anche nella comunicazione del web il nostro paese poi il nostro bel paese in più eccelle anche per le tante verità nascoste come quelle sulle stragi sulla mafia sulla trattativa stato mafia che è nascosta dalla comunicazione lo sappiamo perché perché i servi sono tantissimi e sono un esercito in servizio permanente effettivo per cui è essenziale conoscere chi li sceglie chi li assume a libro paga quali sono i dispositivi con cui li mettono al lavoro affinché i ripetitori dei loro messaggi siano a loro volta nutriti sistematicamente in altri termini occorre capire come funzionano le strutture industriali della menzogna della bugia occorre capire come riescono a vendere un presidente per lo meno fino al tempo della Brexit o per lo meno fino al tempo dell'elezione del presidente Donald Trump come confezionano una narrazione dei fatti piccoli e grandi occorre capire in che modo orchestrano le nostre emozioni per quali vie le diffondono come fanno far credere che una certa guerra ad un certo punto sia inevitabile e perfino giusta e addirittura umanitaria capite dunque che un manuale di difesa è indispensabile ma non va nella strada di questa commissione va in senso opposto a questa commissione per scrivere questo manuale infatti basterebbe ricordare prima ancora del covid alcune storie che ci sono passate sotto gli occhi in un certo modo le quali abbiamo creduto così naturalmente semplicemente e invece dopo solo dopo ci siamo accorti che erano proprio un'altra cosa e come ce ne siamo accorti semplicemente dopo aver spento gli schermi della televisione dopo aver ripiegato i giornali dopo che abbiamo sottoposto verifica sul nostro computer o sul nostro cellulare quello che avevamo letto quello che avevamo visto e sentito e noi siamo stati fortunati perché abbiamo avuto questa possibilità diversamente da milioni di persone che non hanno avuto lo strumento intellettuale per far funzionare il proprio cervello autonomamente da ciò che veniva loro offerto e ciò non è dipeso dal fatto che non avevano un cervello disponibile ma è dipeso dal fatto che avevano una sola versione dei fatti e non pensavano che ve ne fosse nessun'altra possibile non potevano pensarlo ecco la prima regola dei manipolatori eliminare oscurare cancellare ogni visione alternativa e la censura poi c'è una seconda regola che definirei però fondamentale in questo caso una colonna importante di ogni manipolazione consiste nel dirottare l'attenzione vi spiego un tipico caso tu sostieni ad esempio che la versione ufficiale dell'11 di settembre è falsa ma non hai ancora finito di pronunciare il titolo della tua tesi che devi fronteggiare l'accusa di essere un complottista cioè tu personalmente sei un complottista cosa voglia dire la parola tra l'altro non è chiaro ma è chiaro che è un insulto e qualunque lettore o spettatore lo ha già assorbito come un insulto automaticamente oppure e questo è un procedimento un tantino più sottile un pochino più fine devi fronteggiare l'accusa di negazionismo come sta succedendo ora qui il trucco consiste nel sovrapporre due concetti molto diversi tra di loro mediante un banale gioco di parole tu neghi qualche cosa dunque automaticamente sei uno che nega sempre cioè sei un negazionista solo che la parola negazionista è entrata nel lessico giornalistico anche come la qualifica che si dà a chi nega l'olocausto del popolo ebraico e così semplicemente ecco ti bollato di antisemitismo prima ancora che si possa cominciare a discutere nel merito ma com'è possibile voi direte che decine di mass media tutti più importanti centinaia di giornalisti migliaia di diplomatici di ministri di parlamentari di uomini di governo lasciando stare per ora i milioni di spettatori e di lettori che sono vittime delle precedenti categorie possono non vedere la monumentale incongruenza tra i fatti e la loro narrazione succede succede perché il pensiero unico si può combattere solo standone fuori anche perché la bugia la menzogna la distorsione mediatica passa attraverso mille fenditure mille stratagemmi mille occasioni fornite dalle stesse tecnologie che sembrerebbero essere state create per riprodurre e moltiplicare la verità anche il taglio di una ripresa televisiva un accostamento un montaggio un sonoro di accompagnamento o una colonna sonora cancellata possono produrre racconti non solo diversi l'uno dall'altro di uno stesso episodio ma completamente opposti ed antitetici o si può trasformare addirittura un evento in un altro evento completamente irriconoscibile e perciò si potrebbero citare migliaia di casi ad esempio nelle tv non dovremmo neppure seguire il reportage di quegli inviati abulici che se ne rimangono in albergo a guardare le altre televisioni e poi pretendono di riassumerti un paese in quattro righe contate e più non dimandare aggiungerebbe il poeta queste strategie comunicative sono state studiate accuratamente e vanno molto oltre la disonestà intellettuale e professionale di individui pur disprezzabili che vi partecipano creando il falso organizzando il dirottamento dell'attenzione inutile fare i nomi li sapete già perché campeggiano sulle prime pagine dei maggiori giornali italiani dirigono tutti i maggiori telegiornali guidano i talk show di cui poi parleranno i colleghi di cui sopra con un gioco rimando infinito in cui i mentitori citano gli altri mentitori a sostegno delle loro menzogne magari fingendo perfino di polemizzare tra di loro queste strategie si basano sulla sedimentazione di medio e lungo periodo cioè la sistematicità la ripetitività senza queste non c'è la necessaria sedimentazione di pensieri e soprattutto di immagini una volta che si è riusciti a far sedimentare nelle menti la propria narrazione del mondo la propria visione del mondo risulta allora più facile risevegliarla allora essa riappare obbediente sollecitata ad associazioni mentali che sono state accuratamente predisposte già in anticipo Dio non voglia soprattutto il Dio degli eserciti che lo spettatore precipiti in una crisi da disconnessione cognitiva è ovvio smetterebbe non solo di applaudire gli assassini ma anche di fare shopping due cose inammissibili per il mercato oggi la violenza della sedimentazione però diventa sempre più sofisticata è un'altra fase quella che stiamo vivendo del soft power cosiddetto ad alta densità tecnologica che viene introdotta come ogni esperimento scientifico che si rispetti attraverso messe a punto ed errori ma gli oggetti dell'esperimento siamo noi e soltanto noi noi tutti che ora però ora in questo momento e nei prossimi mesi dobbiamo ricordarci delle parole che pronunciò Benjamin Franklin agli albori della storia degli Stati Uniti d'America quando disse chi è pronto dar via le proprie libertà fondamentali per comprarsi briciole di temporanea sicurezza non merita né la libertà né la sicurezza e noi siamo qui oggi perché le nostre libertà fondamentali frutto anche del sangue dei nostri nonni dei nostri padri non siamo disposti a cancellarle dalle nostre vite e ora abbiamo in video Claudio Messora il direttore di BioBlu buongiorno a tutti un a caso un video con questo panorama riconoscerete il cielo riconoscerete gli alberi e hanno un significato profondo queste cose significano libertà voi adesso siete in una bella aula magari con tappetini di velluto rosso con tanta tecnologia e vi sentite giustamente al centro del mondo ma che mondo è è il mondo politico è il mondo parlamentare è il mondo delle leggi è il mondo artificiale che si danno gli uomini per governare se stessi ma il vero mondo è questo e in questo mondo l'uomo nasce libero libero di andare libero di costruire libero di sognare di interrogarsi libero di parlare libero di credere ora non è pensabile che siamo arrivati non voglio dire all'apice ma in un punto della nostra evoluzione decisamente progredito e ci siamo scordati del significato della parola libertà in queste ore voi state decidendo se non avete già deciso di avallare la commissione governativa sulle fake news e che cos'è la commissione governativa sulle fake news prima di rispondere a questa domanda vorrei ricordarvi che cosa significa parlamento chiaramente lo sapete benissimo però forse vale la pena di fare un ripassino parlamento è il luogo dove il popolo si incontra e discute di ciò che gli è utile e lo fa attraverso i suoi rappresentanti che quindi sono i rappresentanti del popolo e sono lì per discutere ciò che al popolo serve ora domandiamoci se la discussione sulle fake news è qualcosa che al popolo serve serve al popolo di squisire se un certo pensiero può o non può essere comunicato oppure serve al potere per conservare se stesso ecco io credo che serva al potere perché serve al potere quando abbiamo cominciato a parlare di fake news quando è diventato un problema su scala planetaria dopo che una parte politica ha perso il referendum costituzionale in Italia dopo che sempre quella parte politica a livello globale ha perso il referendum sulla Brexit e dopo che sempre quella parte politica ha perso le elezioni negli Stati Uniti d'America il giorno dopo è stato coniato o comunque messo insieme amplificato questo neologismo fake news il giorno dopo hanno cominciato ad interessarsene tutte le elite a cui siamo abituati diciamo a cui siamo abituati comunemente di cui leggiamo il giorno dopo hanno cominciato ad interessarsene su mandato di questa elite anche i parlamenti nella fattispecie del Parlamento Europeo il giorno dopo sono state costituite commissioni di coloro che il potere anche mediatico lo detenevano e che sostanzialmente si riunivano per capire come non perderlo è una parte di potere politico che vuole conservare se stessa a svantaggio di ciò che desiderano i cittadini scendete nelle piazze passeggiate per le strade e chiedetemi se trovate un solo cittadino che anziché chiedervi lavoro economia giustizia sociale una sanità che funziona le strade senza le buche che chiede di non andare in cassa integrazione che chiede di non rimanere chiuso in casa vi dica no mi scusi onorevole lei deve fare qualcosa contro le fake news è chiaro che questo non avviene non avviene perché la gente non importano accidenti anzi limitare questa ossessione nei confronti delle fake news che di per sé sono un fenomeno se mai esiste che è sempre esistito cioè il fatto che ci possa essere qualcuno che racconta delle balle e che non deve essere per forza identificato nella rete perché se davvero ci volesse essere qualcuno che combatte e che racconta le balle la prima cosa che dovrebbe fare è andare nelle sedi dei grandi giornali entrare nelle sedi televisive e andare dai direttori piazzati lì dai capi dei loro referenti politici e dirgli perché hai raccontato una balla questo non avviene avviene soltanto nel luogo deputato alla libertà della rete e la risposta è dentro di voi come diceva quello avviene in questo modo perché le news che sono ritenute fake che danno fastidio sono quelle che non sono controllabili dal potere costituito e così avviene che mentre viviamo la più grande crisi politica della storia dell'umanità è stato dedicato un'immensa quantità di energie e di risorse per la creazione di commissioni di nominati neanche eletti dal popolo neanche rappresentanti del popolo di nominati governative che chiaramente richiamano sinistre sinistre allusioni a epoche della storia passata dove era l'esecutivo che decideva ciò che poteva o non poteva essere non detto ma finanche pensato e queste commissioni hanno svolto il loro lavoro in maniera abbastanza opaca e contemporaneamente quello che abbiamo assistito è che i social network che erano nati insieme alla rete chiaramente come loro emanazione come luogo di libertà dove il popolo poteva scambiarsi informazioni discutere come se fosse un grande bar venivano improvvisamente oscurati censurati e non venivano censurate soltanto le ipotesi o le teorie dei pazzi che gridavano alla luna anche se io rivendico che ognuno abbia il diritto di pensare e dire quello che vuole perché le informazioni si combattono quelle cattive con le buone informazioni si combatte con il confronto ci si rende disponibili al confronto e questa è la maniore migliore di smontare qualunque balla che sia di regime che sia dei media mainstream o che sia presente in rete bene venivano invece oscurati anche i video di scienziati responsabili di unità operative delle università semplicemente perché non dicevano quello che l'OMS in quel preciso momento diceva se l'OMS diceva che le mascherine fanno male loro dicevano che fanno bene se l'OMS diceva che le mascherine fanno bene loro dicevano che fanno male se l'OMS diceva che bisogna lavarsi le mani loro dicevano attenzione che lavarsi troppo le mani può fare male se loro dicevano che lavarsi le mani fa bene l'OMS diceva che lavarsi le mani invece fa male e abbiamo assistito proprio a questo pendolo impazzito e amministratori delegati dei grandi social network come il CEO di Youtube hanno dichiarato pubblicamente che loro censurano e oscurano qualunque video che vada contro le indicazioni chiaramente del momento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non importa se si trattasse di video di cittadini oppure di video di accreditati edottori o scienziati piuttosto che di testate giornalistiche i video sono stati sistematicamente oscurati la libertà è stata improvvisamente e drasticamente ridotta abbiamo vissuto uno dei periodi di oscurantismo più forti da che esiste il genere umano e sicuramente da quando è nata la rete però questo non ha rappresentato la fine delle voci scomode dei cittadini che non sono autorizzate dal potere a circolare nei palazzi ad essere emanate e radiodiffuse dai network questo ha rappresentato un incentivo un trampolino perché la prima regola della libertà è che vince sempre la libertà trova sempre la sua strada e così ad esempio noi siamo diventati un'attestata giornalistica mi riferisco a BioBlu e siccome anche come testata giornalistica sui social eravamo continuamente a rischio di oscuramento ci siamo costruiti le nostre app diffuse su tutti i dispositivi e la gente si sta scrivendo e siccome volevamo avere tutte le garanzie costituzionali che i social non potevano garantire su pressione di quelle commissioni denominati decise da un esecutivo allora abbiamo acquistato delle concessioni ministeriali per trasmettere sul digitale terrestre cioè coloro che hanno diciamo spinto per perché esistesse una commissione governativa contro le fake news hanno ottenuto che quelle voci liberi e indipendenti che venivano accusate di diffondere fake news solo perché diffondevano appunto scienziati che non facevano magari parte del patto per la scienza o che non erano colleghi e amici di coloro che tutte le domeniche andavano in televisione intervistati sempre dallo stesso conduttore senza contraddittorio perché lì il contraddittorio non si chiede mai sulle reti mainstream il contraddittorio è vietato ma va benissimo così bene proprio queste persone hanno trovato una strada che mai avrebbero pensato di poter percorrere quindi questa è una dimostrazione è una dimostrazione che la compressione delle libertà è una strada sbagliata io ho creato un network un network anche televisivo adesso non si chiama BioBlu si chiama DavveroTV perché si chiama DavveroTV perché volevo essere inclusivo pensavo che non sarebbe stato giusto limitare soltanto a noi la possibilità di continuare a parlare la possibilità di continuare a godere di quell'espressione del libero pensiero che è garantita dalla nostra Costituzione continuamente minacciata dallo stesso potere politico che grida le fake news e così lo chiamate in un altro nome in maniera che fosse un cappello omnicomprensivo condivisibile da tutti e sto raccogliendo tutte quelle voci di informazione libera indipendente autorevoli o magari meno autorevoli per quanto poi la parola autorevolezza possa avere un significato perché voglio credo fermamente che la libertà di espressione di parola debba essere garantita e voglio che sia garantita per tutti tutti significa tutti abbiamo anche proposto ai cittadini di firmare il patto per la libertà di espressione e udite udite in pochi giorni hanno firmato quasi 100.000 persone siamo adesso a 90.000 se questa non è la rappresentazione del volere dei cittadini non so che altro potrebbe essere ciò nonostante ciò nonostante mentre i cittadini dicono che non vogliono il prolungamento dello stato di emergenza e firmano siamo già a 50.000 anche qui dopo pochi giorni mentre i cittadini dicono che non vogliono commissioni che limitino il loro diritto di parola e firmano e siamo già appunto a quasi 100.000 firme il potere si organizza per votare per costituire delle commissioni che altro non sono che degli organi che debbono servire a tutelare se stessi il potere si organizza per costruire organi che tutelino se stessi e la loro voce è l'inversione del meccanismo di rappresentanza popolare la rappresentanza popolare si basa sulla sovranità lo sapete tutti siete lì quindi articolo 1 della nostra Costituzione bene qui si teorizza l'opposto la sovranità appartiene ai parlamentari e i cittadini non valgono più niente i cittadini possono dire fare baciare pensare soltanto se pensano dicono fanno baciano quello che noi diciamo facciamo pensiamo e baciamo questa chiaramente è una deriva assolutamente inaccettabile della democrazia e tutte le voci al di fuori del pensiero unico dominante ormai proposto in H24 su tutte le reti governate dagli stessi editori perché la concentrazione dei media nelle mani di pochi editori è un male che dovrebbe preoccupare quel legislatore che è davvero preoccupato per la democrazia e invece è diventato paradossalmente per loro per il legislatore un bene che gli permette di continuare ad esercitare il potere bene noi crediamo che questa concentrazione sia un male perché una democrazia può solo funzionare quando è consentito a tutti di dibattere liberamente e per questo continueremo a batterci sono felice che abbiate dei campioni del libero pensiero di quelle persone che seguono il motto ostinatamente contro tanto caro a Fabrizio De Andrè e a tanti altri poeti e a persone che ci hanno insegnato a vivere a esistere a pensare non certo avrebbero mai appoggiato il regime del pensiero unico del totalitarismo mediatico e avete per esempio Fabio Duranti che ha una testata editoriale e che è stato addirittura oscurato con la custa di pedofilia che non aveva assolutamente nessun senso bene Fabio è un guerriero un combattente nato così come per vocazione non perché siamo cattivi ma perché crediamo in ciò che è giusto lo stesso facciamo noi combattiamo combattiamo per la libertà di espressione ora in questa sala dove mi starete forse ascoltando siete probabilmente giornalisti e siete probabilmente parlamentari se siete parlamentari io vi chiedo state facendo il volere del popolo quando avallate commissioni cioè assemblee di vostri amici o colleghi che dibattono se tal persona o tal altro cittadino abbia il diritto di parlare con altri cittadini per esprimere le sue idee pensate che questo sia il bene del popolo o pensate che questo sia il bene vostro una riflessione che penso che dovreste fare e ai giornalisti dico c'è sempre spazio per la libertà anche quando pensate di avere il cappio al collo e che non vi sia alternativa seguite l'esempio delle voci libere e indipendenti che stanno in questo momento storico cambiando la storia stanno cambiando la storia e io vi suggerisco di non perdervelo ringrazio Sara Cugnal perché grazie a questi ultimi parlamentari liberi che fortunatamente riusciamo ad avere prima chiaramente del taglio dei parlamentari che è funzionale proprio a ridurre il numero delle voci libere rendendo i parlamentari più controllabili perché meno sono e più semplici ringrazio Sara Cugnal perché è essenziale che ci sia ancora qualcuno rappresentante del popolo che viva Dio la voce del popolo la fa sentire grazie a tutti ringrazio tutti i partecipanti a questa interessantissima conferenza invito tutte le persone che stanno guardando questo video online quindi vedere anche i video precedenti io faccio un intervento come presidente della commissione vigilanza sul polarismo dell'informazione della regione Lazio in questo ruolo istituzionale dicendo che molto brevemente cosa emerge da questo interessantissimo confronto chi sono i colpevoli di chi è la colpa di tutto questo e se dobbiamo cercare i colpevoli dobbiamo solo guardarci allo specchio perché noi cittadini italiani abbiamo permesso che l'informazione possa in questi ultimi anni possa essere degradata in questo modo perché non abbiamo mai messo in discussione quello che vedevamo in tv quelli che erano i titoli dei giornali quello che era il il mainstream ci siamo come dire a suoi fatti anno dopo anno direttore dopo direttore a questo racconto unico abbiamo perso forse il senso critico nel poter valutare le fonti dell'informazione bene l'informazione ha questo ruolo fondamentale giornalisti hanno questo dovere di verificare l'informazione e dare l'informazione spesso ormai ci siamo persi questo principio base di poter verificare la fonte vi faccio due esempi molto concreti Conte Conte è un premier di un paese importante che sta dando informazioni su una pandemia ma nessuno mette in discussione addirittura l'elemento principale il numero di morti il numero di morti è un tema su cui stiamo facendo una retorica una propaganda nazionale su cui nessuno pone alcuna domanda e un giornalista dovrebbe chiedersi ma questo numero di morti è esattamente questo oppure no partire da questa domanda permetterebbe di aprire un'inchiesta giornalistica abbiamo tanti giornalisti di inchiesta in Italia che potrebbe portare a tante possibili letture alternative di questi numeri e della relativa emergenza esiste ancora l'emergenza diciamo non è più sanitaria ma è democratica forse arriverebbe anche a riflettere su questo tema e poi un altro esempio di fake news come dire istituzionale Nicola Zingaretti vi faccio questo esempio perché nella mia regione è un classico esempio di fake news di un altro profilo istituzionale lui dice da 4-5 anni che Lazio è uscito dal commissariamento della sanità senza nessuna documentazione né prova ufficiale fa conferenze stampa fa annunci e tutti i giornali prendono questa notizia senza verificare la fonte è stato fatto nel 2017 2018 e l'ha fatto nel 2020 pochi giorni fa tutti i giornali hanno riportato questa notizia senza verificare minimamente se esista un documento scritto istituzionale che possa garantire questa verità quindi vedete il giornalismo è come dicevamo fatto di certifiche fondamentali e di libertà di informazione questo è quello che manca io come presidente di questa commissione ci tengo a dirlo proprio perché sono scomodo perché dico queste banalità rivolgendomi anche a Conte oppure a presidenti illustri come Zingaretti perderò questa presenza di commissione molto probabilmente fra poche settimane perché raccontare la verità raccontare come stanno facendo molti canali penso a Bio Blu penso a Grimaldi a tante persone che dicono la verità sono persone scomode queste persone devono essere prima accusate di complottismo e poi eliminate dalla narrazione per rendere questa unica visione della società quindi io faccio un appello ai giornalisti come è stato fatto dai miei predecessori qua come relatori ma anche ai cittadini perché stiamo perdendo diritti se stiamo perdendo la capacità critica di avere più informazione questo pluralismo di informazione è un nostro diritto pretenderlo dobbiamo essere noi i primi a boicottare e ripeto boicottare quei giornalisti quei canali televisivi quelle reti che ci raccontano un'unica verità come se fosse la verità assoluta questi talk show in cui il giornalista insieme a un altro giornalista commentano un altro giornalista dobbiamo non più accendere loro vogliono spegnerci i nostri canali informativi siamo noi i primi a spegnere quella televisione che ci racconta quella falsa verità noi abbiamo questo potere immenso come cittadini possiamo boicottare chi ci dà una falsa verità ma soprattutto appoggiare sostenere ascoltare quei canali di informazione indipendente che adesso esistono stanno unendo le forze vediamo questi progetti molto interessanti siamo noi i primi a dover staccarci da Google Amazon Microsoft Facebook e andare a ascoltare questi canali informativi che sono gli unici in questo momento che hanno un controaltare all'informazione di mainstream quindi sta tutto nelle nostre mani se vogliamo uno stato di diritto di informazione libera di pluralismo oppure possiamo rassegnarci ad essere sudditi schiavi e persone ormai inconsapevoli di quella che è la realtà quindi il mio appello finale è proprio a unire le forze e riprenderci in mano il diritto all'informazione libera e indipendente che deve essere garantito dalla nostra Costituzione grazie a tutti grazie a tutti